ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio oggi voglio parlarvi di questa piccola pistola spara punti che ho comprato alla lidl giorno 3 novembre e l'ho pagata 7 euro e 99 costa poco è semplice ma un sacco di funzioni che non dobbiamo sottovalutare e che oggi voglio farvi scoprire quindi guardiamolo assieme e mettiamo dalla prova iniziamo viene venduta all'interno di questa scatolina in plastica corredata da delle punte si tratta di graffe quadrate da 8 mm dei chiodi a t 13 mm e delle graffe a u da 12 mm e allora guardiamo il prodotto da vicino vediamo le sue funzioni e come costruito è interamente in metallo tranne questa protezione in gomma rossa all'interno dell'impugnatura ha una leva che ci permette di sparare i chiodi bloccata da questo sistema di sicurezza basta abbassare in questo modo e sarà pronta per sparare i chiodi sulla parte alta abbiamo questo sistema che ci permette tramite questo bomello filettato di imprimere più o meno forza al chiodo alla graffa che spareremo sul manuale di istruzioni si consiglia di non arrivare a fine corsa anche se non è facilissimo capirlo quindi svitandolo ci si trova quasi a fine corsa con il rischio di staccarlo dal corpo comunque allora questa spara punti questa cucitrice in realtà perché è una cucitrice serve più che altro a cucire stoffa per esempio per rivestimenti di sedia sellini di moto eccetera non serve a unire due tavole di legno tra di loro pure perché le dimensioni dei chiodi che riesce a sparare sono limitate infatti parliamo di un centimetro almeno viene fornita con i chiodi da un centimetro però fa anche altre cose cose che ritengo veramente fantastiche ed utilissime allora intanto sulla parte posteriore abbiamo questo sistema che ci permette di rimuovere le graffe sia quelle a u che quelle quadrate e sulla parte frontale abbiamo questa sagomatura che ci permette di sparare le graffe a u e vedremo il suo utilizzo mettiamola alla prova direttamente con le graffe quadrate per poterla caricare bisogna far arretrare questa parte abbassarla e poi c'è strarla nel caso delle graffe quadrate va posizionato a cavallo di questa parte sagomata in questo modo e poi lasciarle scivolare verso giù dopo di che fare il procedimento inverso quindi così è carica e pronta per sparare le nostre graffe innanzitutto il corpo farebbe sarebbe una sorta di rinculo alla spara punti e quindi la graffa non verrebbe conficcata nel modo corretto quindi vi faccio vedere con una potenza minima perché siamo praticamente quasi a fine corsa premendo sulla testa della spara punti e provando a spararne una perfetto è stata conficcata perfettamente quindi già la potenza minima va benissimo perché la graffa si conficca dritta perfettamente se invece la potenza fosse troppo si creerebbe una sorta di gobba perché le due estremità verrebbero conficcate con più energia la parte centrale ovviamente rimarrebbe in superficie si creerebbe una bomba comunque a vito fino in fondo adesso abbiamo dato il massimo della potenza ne sparerò una praticamente a fianco anche il rumore cambia come vedete è molto più schiacciata però la parte centrale crea una sorta di gobba perché le due estremità sono molto più conficcate la regolazione della potenza ovviamente è da gestire in base al materiale che stiamo cucendo sulla superficie si tratta per esempio di plastica delicata utilizzeremo una potenza minore per evitare che la stessa plastica si strappi se si tratta invece di superfici più resistenti possiamo utilizzare anche la potenza massima ma secondo me anche una potenza minima intermedia va benissimo da questa parte abbiamo la finestrella che ci consente di vedere quanti della quante graffe conti che abbiamo ancora all'interno quindi se necessario cambiare o meno ma vi ricordo di fare attenzione perché questa spara punti purtroppo non ha una sicura che ci impone di premere la stessa cucitrice sul pezzo basta semplicemente premere anche in questo modo e colpo verrà lanciato io adesso gli occhiali di protezione quindi posso fare questa prova vi faccio vedere sparando all'interno della valigetta che il corpo viene comunque lanciato anche se non viene premuto contro nessuna superficie la graffetta adesso si trova qua quindi utilizziamo sempre occhiali protettivi come sto facendo io in questo momento e soprattutto evitiamo di puntarla verso qualcuno allora adesso dopo aver visto questa prova con le graffe quadrate proviamo i chiodini ovviamente per rimuovere le graffe basta semplicemente fare questo lavoro quindi batterla con il caricatore aperto e le graffe si toglieranno può capitare che questa cucitrice però si incepi per poter liberare il caricatore basta prendere queste due levette con le dita tirarla un pochettino verso dietro e sollevarla quindi rimuovere eventuali graffe piegate comunque incastrata all'interno della stessa dopodiché per chiuderlo basta fare la stessa manovra quindi tirare verso dietro e incastrarla nuovamente allora vediamo pure la rimozione di una graffa sparata male vi faccio vedere anche cosa succede se non premiamo la cucitrice contro la superficie quindi se lo teniamo in questo modo semplicemente da dietro come vedete non viene conficcata del tutto sulla superficie rimane questo spazio perché ha bisogno di essere premuta come tutte le cucitrici per poter lavorare bene in questo caso possiamo comunque rimuovere la graffa tramite questo sistema di cui ho parlato poco fa perché facendo così si inserisce questa parte sporgente nella parte posteriore e possiamo rimuoverla adesso invece proviamo le graffe au si inseriscono nella parte centrale quindi al centro di questa parte sagomata e si lascia scivolare all'interno in questo modo quindi si chiude e possiamo sparare le graffe che però non vengono conficcate in profondità ma rimane un poco di spazio e questo non è un difetto ma è fatto apposta perché questo tipo di graffa ci serve a uscire sul legno o altre superfici che lo contende i cavi elettrici quindi se io avesse necessità di bloccare questo cavo in questo modo con questa parte sagomata avrei la certezza di dove posizionare il cavo quando devo spararlo e posso bloccarlo in questo modo adesso è messa a minima potenza aumentando la potenza e premendo sulla parte alta potrei bloccarlo per bene come vedete in questo modo ho la possibilità di fissare dei cavi su una superficie e queste graffe au possono essere applicate anche sulle pareti di casa io ho fatto la prova per esempio in un angolo nel mio laboratorio in cui c'è una parete con mattoni e mattoni e poi il gesso sopra è riuscito tranquillamente a fissare una graffa di questa o anche sulla parete quindi faccio una prova in questo angolo che come vedete si conficca perfettamente e ci consente quindi di fissare eventuali cavi a muro ora facciamo la prova con i chiodini questi sono i chiodi in dotazione possiamo utilizzarli a piacimento a destra oppure a sinistra lo metterò a sinistra in questo modo basta semplicemente infilarli così e anche in questo caso farli scorrere in avanti quindi una volta di chiusa possiamo sparare i chiodi come vedete riesce perfettamente a essere conficcato sul legno stiamo parlando della potenza massima potenza intermedia viene conficcato allo stesso modo alla potenza minima si è piegato leggermente quindi faccio un'altra prova ok anche alla potenza minima su questo legno tenero semplicemente un listello di abete è riuscito a conficcarsi perfettamente ma facciamo una prova a questo punto anche con chiodi di misura diversa perché io ho dei chiodi più grandi come questi per la spara punti pneumatica più visto che riescono ad entrare quindi mi viene il dubbio che possono essere sparati e vengono sparati perfettamente anche i chiodi più grandi con la potenza minima rimane un poco sporgente proviamo ad aumentare la potenza ok potenza quasi al massimo il chiodo viene praticamente infilzato tutto nasce per i chiodi da un centimetro però come vediamo riesce a conficcare perfettamente anche quelli più grandi da un centimetro e mezzo e allora proviamo a fissare questo scarto di parquet nel legno che abbiamo usato finora no non riesce non nasce per questo scopo quindi non riesce ma sappiamo comunque i chiodi più grandi riesce a spararli quindi se dobbiamo fissare qualcosa che ha uno spessore più elevato con i chiodi da un centimetro e mezzo comunque riusciamo lo stesso a utilizzarla e allora ragazzi cosa dire di questa spara punti questa cucitrice della power fix secondo me vale la pena acquistarla perché costa solo 7 euro e 99 perché funziona bene perché ha più funzioni riesce a sparare queste graffe che ci fissano i fili sia sulle pareti in legno che anche sulle parelli pareti rivestite in gesso come abbiamo visto ipotizzo anche tonalchina e tanto altro i chiodi riesce a spararli sia da un centimetro quelli più grandi però non riesce a unire due tavole fra di loro ma non nasce per questo motivo nasce come cucitrice io l'ho utilizzata oggi per creare un paravento per ripristinare un paravento però lo spogliatoio dello studio ma la utilizzerò per tanti altri motivi o anche quelle batterie però questa è insostituibile perché non hai bisogno di dover pensare alle batterie manutenzione di alcun tipo semplicemente metti le grappe e spari cosa dire secondo me funziona bene e secondo me è un prodotto che se trovate in giro dovete comprare vi ricordo che è uscita alla lidl il 3 novembre quindi ancora forse qualche esemplare si trova ma chiunque l'avesse comprato e non conosceva queste caratteristiche che avevo fatto vedere oggi le avrà scoperte colgo l'occasione in questo video per salutare anche gianni puro gg garage ci siamo sediti oggi in chat abbiamo fatto una chiacchierata e quindi vi mando i miei saluti detto questo non mi resta che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo mi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se lo avete ritenuto utile iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella qua giù modo attivare le notifiche e ricevere un email ogni volta che caricherò un nuovo video e ci vediamo per i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto